Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di Prezzo Crew E oggi siamo ritornati su FIFA 17 Ancora per poco ragazzi, perché per poco esce FIFA 18, grande Come promesso, eccoci qui per i Tots della Serie A Ho promesso di spacchettare insieme a Mike Chosha Però lui è appena tornato da Los Angeles E lo faremo comunque sempre per la Serie A in settimana Nel frattempo proverò per l'ennesima volta a spendere Nel frattempo basta però ragazzi, basta Gli ultimi 100 euro basta, basta L'altra volta hanno speso 200, non ho trovato nulla Speriamo di trovare qualcosa adesso Proviamo un attimo a spacchettare ragazzi C'è tanta roba Allora come giocatori della settimana, cioè come Tots Abbiamo Higuain, Dzeko, Mertens e... Nainggolan, guardate chi è Nainggolan ragazzi Costerà quanto Ronaldo Tots, sicuro perché non è forte Poi abbiamo Mertens, abbiamo detto Buffon, Donna Roma che si bacia la maglietta Mamma mia Poi vabbè Salà lo voglio assolutamente Abbiamo Icardi, Belotti, che cosa Oh, Dybala Che cosa, Chedira Abbiamo Insigne Abbiamo un sacco di giocatori fortissimi Che raga, cioè Se non c'è niente oggi mi do all'ippica Comunque ragazzi andiamo Abbiamo dei pacchetti, un sacco dei pacchetti Oro Prime, Oro Rari, Calcio, Serie A Prime, mega pacchetto raro Pacchetto Ultimate da 2.500 FIFA Points Dai ragazzi, niente workout Niente workout Abbiamo Andanovic 2.500 25 euro praticamente Niente, niente, niente Ci sono quelli Pacchetto giocatori Oro Prime Da 600 Prova una spacchetta un po' di questi Magari, non si sa mai Magari riusciamo a fare qualcosa Niente Niente Bartra Ciao Ciao FIFA FIFA Mi raccomando Artro da 600 No Tutti i portieri Assegno 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 Rangel Mamma mia Mandiamo solo lui Cari Sesti cauli Concentratevi con me Concentratevi con un Artro da 600 FIFA Points Niente Niente Lo schifo Promo Allora Questi da 1000 Pacchetti giocatori rari Niente workout Però la palletta è Bella grossa Farman Farman Ragazzi 50 euro sono quasi partiti 50 euro sono quasi partiti Aiutatemi Pacchetti giocatori calcio A Prime Quindi questi devo spacchettare sempre Niente workout Niente Cosa Lo schifo Licksteiner Niente Ah quindi questi sono solo giocatori della serie A Perché non l'ho fatto prima Sono un deficio scemo Vai Niente ancora Che pizza Datevi un workout 50 euro sono andati Niente Che dobbiamo fare Schifo tutto qua Perché tanto Mandzukic Arbiol Parolo Masina Andiamo Torniamo su quello da 2500 fiva points Ci riproviamo Niente workout Niente Tiago Tiago ragazzi Tiago Tiago Senza parole Ragazzi 2000 fiva points Sono rimasti E adesso andiamo Torniamo su quello della serie A Perché Sì serie A Serie A Niente workout Non è possibile Non è possibile Pavoletti Cioè non è possibile Che fiva Mi fa ste cose Cioè Oh 100 euro Sono rimaste 1000 fiva points Alice Sali un secondo Cosa Posso aver bruciato Qua Sulle scale Posso aver bruciato Ah sì Sì Pochetto Non è che si andrà a fuoco casa No No Leviamo gli occhiali Dai leviamo gli occhiali E vediamo adesso E vediamo Ciao a tutti Ciao a tutti Qua si saluta Ciao così Ciao a tutti Facciamo una cosa Adesso Fai così Premi X Su Ok Vai Guarda qua Guarda 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 Oh workout Tots Papà Argentino Higuain Di bala Di bala papà Di bala Di bala Di bala Di bala Di bala Di bala Di E ne abbiamo trovate due Che Due Carte Che usciva il ragazzo Papà Abbiamo tratto di bala Insieme Qua parte fortuna Oh mio Dio Guardalo Quanto costa Fino a 3 milioni Un milione 8 Un milione 9 Un milione 9 Papà Un milione 9 Sono tantissimi Soldi Ci compriamo Tutta la squadra Lo vendiamo subito Guarda Sono pochissimi Che hanno trovato Siamo stati super fortunati Mandiamo subito Al club Lo vendiamo subito Ci compriamo Tutta la squadra Con Ingolan Fortissimo Possiamo aprire Questo da 600 Vediamo un po' Se trovo qualcosa Cos'altro No niente Papà Brasiliano Che si fa Jonas No niente Papà Abbiamo trovato Di bala Mi ha sputato Sto sputato Ha detto Di bala Io ho sputato Hai trovato una carta blu Madonna santa Abbiamo trovato Di bala Di bala Di bala Finalmente un tozzo Finalmente un tozzo Io adesso ti devo comprare Un regalo Ragazzi Scrivete qua sotto Quale regalo Devo comprare da lì C'è niente di tanto costoso Che regalo vuoi te? Ma sai Hai ricevuto un sacco di regali Adesso è stato il compleanno tuo Che regalo vuoi? Vabbè Una macchina per le Una macchina per fare le collane Una macchina per fare le collane Ok va bene Sarà fatto Nel prossimo spacchettamento Vi farò vedere la macchina per fare le collane Nostro club Cerca il giocatore Oh eccolo Di balino Andiamo a vedere Per il 6 metodo L'ho trovato l'altra volta Però non si ascolta Di metterlo nel video Sono proprio scemo Ok Di bala Di bala Vediamo quanto costa Madonna Milano 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 e otto Milano e otto Un milano e nove Regà Io lo metto in vendita papà Lo vendiamo subito Ci facciamo un sacco di soldi Che compriamo ai giocatori più bravi Più forti No più bravi è difficile Almeno ci facciamo una squadra Quella potente Va bene Allora mettiamolo a millenove Va Un milione e nove Non millenove Un milione e nove Ok E facciamolo partire da qua Così Ok Vado Uno due tre Ciao di bala Lo so ragazzi Però Costa troppo Fra pochissimi giorni Questo costerà la metà Più o meno Quindi Andiamo nella lista trasferimenti Lo vediamo subito Vediamo Ok Ok Ancora nessuna offerta Però ragazzi Mettiamo un po' Vendiamo tutti questi giocatori Va bene Comunque Va bene Comunque ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate Quanti mila like Chiediamo 20 mila like 20 mila like E spacchetto con papà Di nuovo 20 mila like E spacchetto con papà Di nuovo Mamma mia Sei proprio un'attrice Sfruttamento minorile E mia figlia Ragazzi Ha trovato Di bala E con questo Ragazzi Se non siete iscritti al canale Fatelo adesso Per seguire Tutte Tutte Tutti Tutti i video Premete sulla campanellina Se non l'avete ancora fatto Io ringrazio Alice Ringrazio voi Che l'avete visto Se non siete iscritti al canale Fatelo adesso Io vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande Grandissimo Abbraccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Al prossimo Video Ciao Ciao E' l'uminaricur Vai guarda qua Guarda 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 Oh workout Tots Oh va Argentino Iguain Di bala Di bala papà Di bala 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 E ne abbiamo trovate due Che Due Arte che ci vanno Ragazzi Papà Abbiamo trovato Di bala insieme Ma porti fortuna E l'ho cercato a madrugata E' cercato a madrugata O sereno tem caído Trai, trai, sereno temba O meu amor está doido Trai, trai, sereno temba